Gianluca Grignani suona in un centro commerciale a Borghetto nel Palermitano, ma interrompe il concerto due volte. Critico nei confronti dell'organizzazione della serata, che definisce pubblicamente una pagliacciata. Il primo gesto di stizza dell'artista è un calcio allo sgabbello sul palco, dal quale rischia di cadere mentre canta una delle sue hit più famose, Destinazione Paradiso. Ma quando ha fatto il suo ingresso sul palco una ballerina vestita di bianco, che si muove sinusamente sulle note della musica, Grignani perde definitivamente la pazienza. Si interrompe, si scusa col suo pubblico e accusa. È una presa per il culo. No, è una presa per il culo. Adesso mi dispiace, io voglio bene però. È veramente, cioè, o imparano in Italia a non essere così, o io, non è possibile davvero. Cioè, avete fatto una cosa, io, io non so che dire. È una vergogna, io sono allucinato. Per restare aggiornato sul gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.